Benvenuti alla rassegna stampa di oggi, venerdì 30 settembre 2016. Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Cominciamo con il santo del giorno, lo vediamo con l'aiuto della grafica. Oggi è San Girolamo, il sole è sorto alle 7.04 e il tramonterà alle 18.53. Sono 15 gradi già alle 7.30 del mattino, quindi direi che è una temperatura diversa da quella di ieri, quando già era molto più fresco, diciamo sui 12 gradi, invece stamattina siamo a 15 gradi, va bene. Abbiamo ancora qualche giornata di sole, infatti questa è la previsione per oggi della protezione civile delle Marche. Avremo cielo sereno, poco nuvoloso, le temperature in aumento nei valori minimi, infatti si percepisce già. Sabato, primo ottobre, vedete le cose già cominciano un po' a cambiare. Avremo infatti possibilità di rovesci sparsi, inottata lungo i rilievi appenninici. Le temperature sono senza variazioni di rilievo, attenzione perché i venti saranno di brezza tesa da sud, in rotazione da sud-est nel pomeriggio lungo la costa e si intensificheranno fino a vento moderato nel tardo pomeriggio. Quindi il primo di ottobre sarà una giornata ventosa sulla costa. Per domenica le piogge si estenderanno, vedete, anche lungo la costa centrale della regione, con rovesci sparsi che si esauriranno domenica pomeriggio, quindi avremo probabilmente piogge solo domenica mattina. I venti saranno di brezza tesa da sud, nella parte interna della regione e sud-orientale, lungo la costa. Per quanto riguarda i prossimi giorni successivi, quindi lunedì, martedì e mercoledì, avremo ancora lunedì tempo molto perturbato. Ci sarà questa goccia fredda sul versante balcanico con instabilità appunto nella giornata di lunedì e martedì, risseguite poi da un ritorno di tempo stabile, quindi anche di un po' di somme, insomma. Cominciamo a leggere i quotidiani, il Corriere Adriatico, il resto del Carlino è tornato con l'edizione di Pesaro. E allora, vediamo subito la prima pagina del Corriere. Il marito maniaco dell'ordine diventa l'incubo della famiglia. È una storia che arriva da Pesaro. Minacce e paure, la moglie è costretta a rivolgersi al centro antiviolenza. Perché? Perché questo marito, maniaco della pulizia, voleva la casa pulita, linda, luccicante, ineccepibile. E quando tornava dal lavoro, passava in rassegna tutti i mobili e gli sportelli alla ricerca di polvere o di qualcosa fuori posto. Immaginate voi cosa poteva essere, povera donna, vivere in questo modo. E poi, chiaramente, tutti gli altri, zitti, nessuno poteva dire nulla, nessuno doveva fiatare. È la storia che racconta Elisabetta Marsigli sul Corriere Adriatico di questa mattina. È la storia che troverete sul giornale Ogini Dicola. Poi, sotto la testata, le notizie in breve, con il calcio, il Fano vuole di più, il derby di domani. Non si può fallire. E poi la foto è per un giovanissimo, giovanotti, con il selingagliese San Paolesi al car di Albenga. C'è questo uomo di Senigallia, qui ritratto ovviamente giovane, che ha fatto il centro di arreddestramento reclute, così, appunto, il cara d'Albenga, e ha avuto come compagno giovanotti. La mia naia vicino giovanotti, l'amico marchigiano, racconta di quel giorno che giovanotti fu trascinato fuori per scherzo, mentre dormiva. La pagina di Fano del Corriere, eccola qua. La tariffa dell'autobus va ricalcolata. Da quasi un anno i residenti di Metauriglia pagano una tariffa troppo elevata e non dovuta per il trasporto pubblico. Il dirigente della regione mesi fa aveva disposto di abbassarla, ma i controllori comunque sia elevano. Continuano ad elevare multe. Non è bastata la segnalazione di un utente e la missione di errore. Danno reiterato e la beffa. La gang degli ospedali, l'indagine si allarga, i tre arrestati svaliggiano i distributori automatici di bevande e di merendine. C'era una volta la Carifano. Bene Comune evidenzia il fallimento del modello privatistico della banca locale. Con l'assorbimento in Creval finisce una storia secolare che ha favorito lo sviluppo economico, non solo della città, la politica del credito accentrata a Sondrio, rischioso il progetto renziano sulle banche popolari. E poi sotto, o meglio, l'altra pagina è sull'ospedale, l'ospedale unico e soprattutto sul luogo dove costruirlo. Ancora si dibatte sul sito migliore. Chiaruccia è stato scartato, mentre Muraglia ha tanti problemi. Ne parla e dice questo il geologo Longhini, che evidenzia la fragilità geologica del terreno, e il rischio di esondazione dell'area pesarese, dell'area del sito di Muraglia. Vedete in questa fotografia le indicazioni sulle caratteristiche geologiche e la descrizione che troverete sul giornale di oggi. Costruire con il buonsenso in zone meno vocate aumenterà notevolmente i costi. Poi la notizia di cronaca di un ladro di biciclette arrestato dai vigili di Fano. Seguite le indicazioni di un testimone, l'arresto è stato salutato anche dal sindaco di Fano. Poi Octoberfest allo Sport Park, omaggio alla Baviera. Birra e cucina tipica della regione tedesca, tutto rock, dai Led Zeppelin a Vasco Rossi. C'è un'iniziativa, 10 giorni di eventi. Gli organizzatori invitano però ad evitare gli eccessi. Per la rimozione dei semafori a Fano, quelli che non funzionano, Fanesi, l'assessore, aveva parlato di 50 mila euro. I grillini, i 5 Stelle invece replicano e dicono che per la rimozione dei semafori servirebbero soltanto 7 mila euro. La pagina della Valle del Cesano. Abbandonano una vasca da bagno, eccola qui nella fotografia, scattano segnalazione e anche il recupero, il rifiuto ingombrante lasciato accanto alla strada. Gli avvertimenti da parte del Comune per chi decide di abbandonare i rifiuti per la strada. Gusto e arte a Pergola con un prezzo promozionale, 20 euro per l'ingresso alle mostre e un pranzo a base di tartufo. Naturalmente si parla in questo articolo del Festival della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato che si aprirà domenica per seguire poi il 9 e il 16 di ottobre. Da Senigallia Mangialardi, che è il sindaco di Senigallia, frena sulla ZTL. Vedremo più avanti, dice il sindaco, il traffico si è alleggerito e al momento non ci sono le urgenze. Beneficenza, sempre da Senigallia, senza frontiere. Gli stranieri offrono aiuti. L'associazione stracomunitare sostiene anche gli italiani in difficoltà. E poi le fiamme nel canneto, un fuggi-fuggi tra i bagnanti, è il secondo episodio nel giro di pochi giorni, forse è stato un falò abbandonato. La prima pagina del Corriere l'abbiamo già vista, adesso velocemente le pagine di Pesaro. Eccole qua, stop a Capalbo su terapia e neonatale. Maria Capalbo è la direttrice generale di Marche Nord, approvato il nuovo atto aziendale di Marche Nord, ma l'unità operativa semplice è stata cassata dalla Regione. Implementate due direzioni universitarie per geriatrie e malattie infettive in virtù dell'accordo con la Politecnica. Il documento con la mission per quattro anni, ratificato con prescrizioni dalla Giunta Ceriscioli. Dichiarazioni ISEE, irregolare una su tre, arrivano le multe, quindi attenzione se avete fatto i furbetti, perché la Guardia di Finanza ha svolto delle indagini e adesso su queste autocertificazioni per ottenere dei servizi stanno arrivando le sanzioni, un'indagine che parte dai protocolli di collaborazione con gli enti locali. C'è questo servizio di Luca Fabri sul Corriere Adriatico di oggi. E adesso apriamo invece il resto del Carlino, che apre, lo vedete, a tutta pagina con questa fotografia. Cambio d'epoca, un sorridente, soddisfatto Matteo Ricci che ha celebrato a Palazzo Gradari il primo matrimonio gay nella storia della nostra città. Fabrizio e Pietro dopo 27 anni si sono detti sì e si sono meritati una pagina, una foto grande così in un giornale. E questo è. Poi, relax dopo l'omicidio di Ismaele e ora fumiamoci una canna, così avrebbero detto i due presunti assassini Igli e Mario, bagnandosi al fiume dopo l'omicidio. Nella foto c'è la mamma del povero Ismaele Lulli, Deborah Lulli. Poi le altre notizie che trovano spazio all'interno, la finanza con l'indagine sulle dichiarazioni Ise, il capitano smaschera i finti poveri e poi da Borgo Pace, con meno migranti non riesco a rientrare nelle spese. Parla Giorgio Ceriscioli che gestisce l'hotel che ospita i migranti ed è un albergo che si trova a Borgo Pace. Poi la cronaca la vedremo tra un istante, colto da infarto a soli 14 anni, un ragazzo salvato a Miralfiore. Allora andiamo subito su questa pagina per qualche particolare in più, è un dramma che è avvenuto nella zona di Miralfiore a Pesaro, adesso questo ragazzino di 14 anni è in terapia intensiva, i sanitari sono riusciti con tenacia a far ripartire il battito cardiaco, però ecco c'è stata davvero una corsa miracolosa contro il tempo in ospedale per salvarlo. E poi dalla pagina di Fano, svaliggiato dal ladro l'insegui con la scopa, colpo sventato, un altro messo a segno, nel Mirino un condominio di Via Piave, dicono adesso i residenti, i condomini, metteremole inferiate. Sono entrati dalla porta sul terrazzo, hanno preso soldi, orologi e le chiavi dell'automobile. Ruba la bici elettrica, invece preso e liberato, poi subito Seri si è complimentato con il comandante della polizia locale, Giorgio Fuligno. Ospedale unico, maggioranza in ordine sparso, girandola di incontri per il sindaco in vista della conferenza di Arevasta della 10 di ottobre. Noi città insiste su Chiaruccia, Sinistra Unita apre Muraglia, il PD si barcamela. Poi l'altra pagina sulla Carifano, siamo preoccupati, si temono riflessi negativi per il credito e anche per il personale. Bene Comune interviene sull'incorporazione da parte di Creval. Il sindaco è tirato in ballo e replica, dice nessuna responsabilità, sono effettivamente scelte che non certo dipendono, riguardano il sindaco. Sui semafori dismessi, rimuoverli costa 7.500 euro, non 50.000. I 5 Stelle contestano le cifre dichiarate dall'assessore Fanesi. Da Marotta invece Unione, indietro non si torna, fibrillazioni dopo la sentenza del Consiglio di Stato. Il poeta Vergoni denuncia a Mondolfo, c'è chi rema contro le sfortune del capoluogo, vanno addebitate esclusivamente ai governanti degli ultimi decenni. Poi un referendum sui nuovi comuni, si vota il 13 novembre e dunque il resto del carino pubblica i quesiti che si troveranno poi nelle schede, sulle quali appunto bisognerà dire sì oppure no. È tutto, grazie per aver seguito la nostra segna stampa. Torneremo questa sera alle 20.30 con occhio ai giornali. Vi ricordo che per le vostre segnalazioni c'è sempre il nostro numero 338 49 68 250 per mandarci le vostre fotografie, le vostre segnalazioni, i vostri video, utilizzando anche l'applicazione gratuita di WhatsApp. A voi tutti gli auguri di una buona giornata. A voi tutti gli auguri di una buona giornata.